È un lotto di sei bottiglie, tutte 2001, grandissima annata, è un liste 2001, una piccola particella che si trova nel comune di Barolo, un Barolo molto potente, dai tannini molto importanti, un Barolo riserva, per noi il Cinque Vigne attualmente come nome, che è un assemblaggio di cinque comuni, di cinque differenti cru. È il Cannubi, il vino top dell'azienda e anche il cru più importante nel mondo del Barolo. Un vino molto assuadente, molto elegante, tannini molto smussati, è uno dei vini che è sempre molto piacevole da bere nei primi tempi rispetto ad altri Baroli dove sono molto più tannici, devono affrontare ancora un periodo di invecchiamento più importante.